Modalità pilota automatico attivata. Grazie per la visione! Modalità pilota automatico disattivata. Modalità pilota automatico disattivata. Modalità pilota automatico disattivata. Modalità pilota automatico disattivata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Incrociatore nemico individuato. Corazzata nemica individuata. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Avvistata, corazzata nemica. Concentrare il fuoco sulla nave nemica. Allarme incendio! Problema risolto, signore! Unica, unica. Allarme incendio! Il crocettore nemico individuato! Problema risolto, signore! Avvistata, corazzata nemica! Il crocettore nemico individuato! Il crocetore nemico individuato! O cambiulare! JCheiniz i det, o Black conversation med elarrest duMac. É quaseari meglio! Un Ravenol engulfatomia. O regain hittite! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.